Voglio il mio shock, caldissimo shock Homer Pedrini Shock, 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 shock Ma hai avuto uno shock tu, Vant? Ti ho avuto a casa, ti ho avuto a casa Io vivo sotto shock La notte non torno Aspetto il giorno per passarlo ancora E insieme a chi? Dove, 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 dove? Siamo noi Sono Matteo Sandri, eccomi Buongiorno, buongiorno Siamo lì E si va, e si va Sul volume Ha detto pesce e venerdì pesce E venerdì pesce Buon venerdì 27 di maggio 2016 Sono le 13.11 in questo momento Questa è Stella FM, la radio che vive con te Bravo Con te Che bello Poi tra l'altro insomma oggi Stavo dando un'occhiata, una spazzolata generale Tutti hanno messo questi post Sì Italia, la morsa del caldo Caldo a fondo Mamma mia, mi hanno appena arrivato Foto di fontanelle Sì Ghiaccioli Granite Frullati Che sono poi le stesse immagini lo scorso anno Improvvisamente tutti diventano vegetariani in estate La miseria E che vanno a perdere i chiletti Eh sì Adesso bisogna mettersi assolutamente in forma Il tempo stringe Per cui anzi siamo già fuori tempo massimo Esatto La dieta si inizia prima Si inizia ottobre Adesso è proprio uno lo assente Madonna, devo mettermi in costume Perché adesso devo andare al mare Allora, io e Walter spesso litighiamo fuori onda Molto spesso Molto spesso, ma i giorni Ma perché abbiamo una stima reciproca E ogni tanto ci piace litigare È un programma difficile È molto difficile E ho scoperto che anche Magalli e Adriana Volpe Litigano spesso Poi ne parliamo perché tutti ne stanno parlando E vuoi che noi del Duiripic non ne parliamo Non ne parliamo Eh no, ne parliamo sì Perché anche Adriana Volpe È god della nostra stima incondizionata Esatto, anche Magalli